mi paga Sandro Oscioni, una partita complicata che la Torres ha risolto nei minuti finali tu sei stato protagonista in mezzo al campo, tanti palloni rubati è stata però tutta la Torres a fare la gara soltanto che il gol non arrivava sapevamo che questa partita era molto complicata comunque una partita di playoff è sempre complicata l'avversario era forte, lo sapevamo però noi siamo arrivati con una condizione forse ottimale forse migliore rispetto alla loro e siamo usciti col tempo il tempo che naturalmente è bastato e servito per fare questi due gol abbiamo detto è stata una partita complicata forse la Torres però ha voluto di più rispetto allo stintino non era forse una condizione atletica migliore ma anche proprio la volontà, la voglia anche di dare una gioia a questi tifosi è oggi numerosissimo esatto, noi abbiamo la spinta di tutta la città quindi è doveroso dare di più e non accontentarci mai e adesso si va in finale? adesso in finale, comunque si sa che le finali sono partite particolari non c'è niente di scontato quindi ce la giocheremo senza San Rizzo è espulso proprio in uti finali questa è una piccola pecca di questa gara peccato, ha commesso un'ingenuità perché loro ormai non ce la facevano più e hanno cercato di innervosirci lui è caduto in queste provocazioni peccato, però il mister saprà come rimediare come sempre, grazie a Sandro Scioni grazie a voi